Ben trovati con in primo piano l'approfondimento dall'Alto Tevere, questa sera parliamo di sport, lo facciamo con l'Olympic Runners Lama, neonata società di podismo, lo possiamo chiamare così, e noi siamo in compagnia di uno dei fondatori e consigliere Mauro Braganti, nonché atleta di punta mi dicono. Esatto, diciamo che nel nostro gruppo sono uno di quelli un pochino più veloci, anche se comunque la concorrenza è tanta e è bene così. Mauro, mi togli una curiosità, come nasce la voglia di fare uno sport così faticoso? Io diciamo che vengo dal calcio, che è un sport collettivo completamente diverso dall'atletica, dal podismo, poi tanti anni con il calcio, all'improvviso ho pensato un po' di cambiare genere, e sono andato completamente all'opposto, perché con sport individuale, tanta fatica, diciamo che rispetto al calcio credo che sia uno sport molto molto più faticoso. Poi all'inizio un po' l'impegno degli allenamenti, qualche giorno allenamenti, qualche giorno riposo, poi piano piano è uno sport che ti prende, e arrivi a un punto che tutti i giorni si fa allenamenti, la domenica sempre a fare le gare, sono anche dimagrido tra l'altro perché è uno sport che c'è tanta fatica, quindi non so, è venuta una cosa un po' spontanea passare a questo sport e adesso sinceramente mi ci trovo parecchio bene e dico sport individuali molto bello. Io ti vedo spesso allenarti nelle strade qui della Valtiberina, quante ore di allenamento dedichi a questo sport? Diciamo che attualmente nell'arco della settimana meno che un giorno, più o meno un giorno, se no per il resto tutti i giorni mi alleno, la domenica le gare mediamente si fanno dai 70-80 km alla settimana, quindi è un bel dispendio di energie, e dopo ogni tanto subentrano infortuni perché ovviamente noi siamo comunque tra virgolette amatori, quindi ci sta anche questo, comunque ecco tanto impegno, rispetto al calcio sicuramente c'è un impegno ancora maggiore. Allora parliamo dell'Olympic Runners Lama che nasce, passaci il termine, dalle ceneri della vecchia podistica lama, in due anni ha già raccolto 40 atleti. Esatto, qui c'è stato un passaggio dalla vecchia gestione alla nuova, non è stato semplice perché comunque la vecchia gestione aveva dato tanto per il podismo nella nostra vallata, ci sono state a un certo punto delle divergenze, di vedute tra la nuova e la vecchia gestione, poi ecco la vecchia gestione ha deciso di non proseguire sul discorso del podismo e quindi noi eravamo un gruppo che molto affiatato, si pensava di poter creare un qualcosa, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Crediamo che ecco dall'anno scorso, l'anno di fondazione dell'Olympic, pensiamo che sia andato tutto già abbastanza bene, l'anno scorso avevamo anche il debutto con la maratonina alla marina, un impegno piuttosto notevole, eravamo un po' sotto gli occhi di tutti, anche perché la maratonina alla marina è una gara che a livello di Centro Italia forse è la più conosciuta e anche la più importante, quindi farla come primo impatto, persone tutte nuove, era un impegno decisamente molto gravoso. Infatti all'inizio c'è stata anche un po' di preoccupazione, come andrà la gara, mentre invece poi a ottobre scorso abbiamo fatto la maratonina alla marina 2010 e c'è stato un grande successo, ci sono stati circa 1.400 atleti, tanto pubblico anche da fuori che è venuto a vedere la gara, ovviamente un grazie, come abbiamo sempre detto, a tutti quelli che ci hanno aiutato, oltre che a noi del Consiglio Direttivo, tutti i nostri atleti, un ringraziamento a tutti gli enti istituzionali che ci hanno aiutato, c'è stato il patrocinio della Regione Umbria, la provincia di Perugia, il Comune di San Giustino, la comunità montana, gli sponsor pubblicitari che sono stati tantissimi, c'è chi ha dato anche un qualcosa di supporto proprio di prodotti per aiutarci, è qualcuno che invece ha contribuito in maniera più concreta a livello finanziario, quindi è stata una serie di cose che ci ha permesso di fare una gran bella gara, però sicuramente le nostre forze operative hanno inciso, ma è stato molto importante anche l'aiuto da parte di tutto il contorno che c'è stato. Maratonina la Marina che vi impegna nell'arco dei 12 mesi, mi dicevi ai microfoni spenti, noi stiamo già lavorando per l'edizione del 2011. Esatto, è una gara che come dicevo prima è una delle più importanti, quindi va programmata per tempo, noi già da 7-8 mesi prima della gara bisogna predisporre un po' il tutto, quello che saranno i premi per il 2011, quello che potrà essere il regolamento Montepremi, quindi ci vuole tanto tempo proprio perché comunque sia una gara che non potrà mai scendere a livello delle piccole gare che richiedono meno tempo, quindi l'impegno ci vuole, però è anche vero che quando si riesce a raggiungere risultati come quello del 2010, diciamo che c'è una grande soddisfazione. Allora torniamo a parlare un po' della stagione agonistica dell'Olympic Runner Slama perché a questo punto entra nel vivo. Esatto, noi praticamente abbiamo domenicalmente, facciamo tutte le nostre gare per noi innanzitutto per divertirci, per cercare di esprimerci al meglio domenicalmente e poi la cosa fondamentale è anche portare, noi abbiamo già fatto pubblicità pieghevole per la nostra manifestazione, ovviamente dove andiamo? Già pubblicizziamo la nostra manifestazione, una cosa a cui ci teniamo molto è andare anche fuori regione, fuori dell'Umbria, proprio perché dall'Umbria diciamo che tanta gente c'è sempre venuta a fare la nostra manifestazione e continua a venirci perché hanno tanta stima di noi. Fuori regione, le regioni limitrofe, Toscana, Lazio, Marche, Emilia Romagna, ci conoscono già tantissimo, però ecco ci piacerebbe un po' allargare l'orizzonte, tipo prendere regioni del nord, alcune regioni del sud, creare diciamo un qualcosa di un po' più ampio e poi soprattutto non concentrarsi solamente sul discorso gara in sé per sé, quindi l'agonismo, ma cercare di promuovere anche un po' le zone del nostro territorio, questo ce l'hanno sempre chiesto sia il comune, la provincia, la regione, quindi per noi è importante che ci venga diciamo gente a correre da fuori, però che poi possano anche restare un giorno, due giorni e visitare un po' quelle che sono le bellezze del nostro territorio. A parte la fatica, a parte il sacrificio, chi volesse avvicinarsi al vostro sport, magari entrando a far parte della vostra società sportiva, che cosa deve fare? Dunque noi abbiamo, a parte diciamo tutti i nostri recabili telefonici, abbiamo un blog, un blog nostro personale dove si può trovare appunto tutti gli indirizzi, poi in quelli particolari... Ci puoi dire l'indirizzo del blog così almeno chi si vede? Il blog è olympicrunnerslama.blogspot.com, quindi entrando dentro il blog si può vedere diciamo oltre le curiosità, oltre le classifiche nostre, classifiche dell'Umbria, di tutto quanto, ci sono anche i recapiti telefonici con cui si può essere contattati. Poi l'impegno per partecipare all'interno della nostra società è minimo, nel senso che si richiede un minimo di partecipazione agonistica e quindi dalle due, tre, quattro gare come minimo ogni anno, proprio per cercare di... cioè la motivazione ci deve essere, una motivazione personale e poi comunque sia andare nelle altre parti del territorio per farci conoscere. Poi diciamo che ci vuole un attimino di aiuto quando c'è la maratonina alla marina, tutti, chi diciamo più a livello operativo, chi a livello più di burocrazia dà una mano, però ecco, tutto concentrato sul discorso maratonina per ora. Ora più avanti probabilmente verrà fuori anche qualcos'altro, nell'arco della stagione cercheremo di fare anche un qualcosa di nuovo. Per intanto, ecco, di nuovo diciamo sul 2011 c'è che è già stata ripresentata la maratonina. È cambiato un po' Montepremi, è cambiato premio di partecipazione, il Montepremi quest'anno sarà molto più ricco dell'anno passato, quindi ecco, per quanto riguarda la maratonina siamo ben fiduciosi di poter raggiungere i numeri fatti anno scorso e perché no, poter incrementare un qualcosa. È difficile perché già anno scorso abbiamo fatto numeri, tra virgolette, da record. Forse se non sbaglio solo una edizione di tanti tanti anni fa aveva raggiunto cifre simili, quindi ecco, già ripetere quello che è stato fatto l'anno scorso sarebbe un gran successo. Gli auspici sono buoni, poi ecco, chi ci conosce già ci sta dicendo che comunque c'è l'impegno e sicuramente saranno tutti presenti a Lama. Speriamo ecco che il 2 ottobre, tra l'altro, già prima domenica di ottobre è già tutto stabilito, che ci sia tanta gente e come al solito che questa è la cosa più importante. Bene, io ringrazio Mauro Braganti della Olympic Runners Lama. Grazie per aver partecipato a questa trasmissione. Con il primo piano per questa sera è tutto. Buon proseguimento con i nostri programmi.